Il basso rilievo in legno Tala, una simpatica ragazza samoana ci chiede se conosciamo che cosa raffigura Noi, da bravi cattolici occidentali non abbiamo alcun dubbio siamo nel paradiso terrestre con il serpente che cerca di convincere Eva a mangiare il frutto proibito Potete immaginare la nostra sorpresa e stupore quando Tala ci informa che il paradiso terrestre Eva e il serpente non c'entrano nulla Il basso rilievo in legno racconta la storia delle origini del primo albero da cocco secondo la mitologia samoana L'albero da cocco è una risorsa fondamentale per i samoani è sorgente e importante di cibo è usato per fare l'olio di cocco cesti, corde per costruire le fale piccole case tradizionali e le canoe Il cocco essiccato è esportato in tutto il mondo ed è quindi fonte di reddito A questo punto non ci resta che ascoltare la leggenda dalla voce di Tala Sina, è una parola che dice Sina malanatuna in inglese Sina and the eel So the story is about Sina and the eel the island of Sawa'i in Samoa there is a beautiful lady her name was Sina she had a little bit ill when the eel grow up his was in love to Sina it made the girls afraid and she was trying to escape or ran away but the fish whatever Sina go the eel was there Sina was trying to escape to the pool of the village to get the water and then she saw the face of the eel there the eel say you stare at me like face of the demand or at someone's words it's Sina was crying and angry angry at him the village chief was trying to kill him before the eel kill he was fell about to Sina and request to Sina to cut his head and plant on the ground Sina was followed to the eel with request and she was plant the head of the eel and the coconut tree was crowed up because of the head of the eel the coconuts it reminds the two eyes of the eel and the mouth of the eel when Sina drink the mouth of the eel so which means that she kiss to the eel so for the Sina so for the Sina so for the eel so for the eel